Buongiorno. Stiamo cercando ancora i neri pregiati. Ormai è qualche giorno che vado a nero perché ci dovrebbe stare il nero adesso in questo periodo. Porta Vespa! Sono sotto una parete di roccia a strapiombo. Qui una volta ce ne erano tantissimi. Io mi ho anche due o tre etti. Porta Vespa! Porta! Ho portato un gagnolino solo perché sono vicino alla strada. In più il nero è profumatissimo, non serve un cane. Basta uno che va a vento mi trova quelli che gli pare se ci stanno. Porta Vespa! Dai, trova! Qui ci sono anche i leggi. Ecco, un po' d'anni fa una pianella come questa con un licino e un ginepro sotto il cane avrebbe scavato subito. però adesso mi sa che sta finendo tutto. Trova! Alla! Grazie.